Che cos'è Altered? Quali saranno le dinamiche che muoveranno questo nuovo TCG? E cosa porterà di innovativo nell'universo dei giochi di carte collezionabili? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Reduce da una campagna Kickstarter eccellente, la più profittevole per quanto riguarda un GCC con più di 6 milioni di dollari raccolti, Altered sta per arrivare e la Equinox, casa distributrice francese, ha tutte le intenzioni di ricavarsi uno spazio da protagonista in questo sconfinato universo. Ma cos'è esattamente Altered? È un gioco di carte ambientato dopo un cataclisma planetario noto come Confluenza, una tempesta magica che si abbatté sul mondo trasformando definitivamente ogni cosa sul suo cammino cambiandone la fisionomia. Tuttavia alcune comunità umane sopravvissute riuscirono ad adattarsi all'apocalisse e al mondo alterato che ne emerse. Rispondendo a una chiamata misteriosa, i popoli rimasti confluirono nella penisola che sarebbe diventata nota come Asgarta, con l'obiettivo di costruire insieme una civiltà condivisa. Da allora trascorsero 500 anni e l'umanità quindi, stabilitasi in pianta stabile, decise di avventurarsi oltre i confini della sua nuova casa, esplorandone le insidie. Per fare ciò venne lanciato il Rediscovery and the Vaux, la più grande iniziativa della storia umana dopo il cataclisma. Oltre i confini di Asgarta, infatti, l'umanità sa che un fenomeno magico noto come Tumulto continua ad alterare il mondo e la nuova civiltà vuole comprenderne la natura. Queste terre in continuo cambiamento sono state troppo ostili per chiunque ci si avventurasse, ma ora ci si può rivolgere agli Exals, coppie di esploratori che possono usare i loro poteri per sopravvivere in questi ambienti instabili. Attraverso queste squadre di esploratori, l'umanità intende setacciare l'ignoto, cercando allo stesso tempo la leggendaria fonte del tumulto stesso, nella speranza di poter stabilizzare permanentemente il caos che domina nel mondo. Questa è la storia che vede la nascita delle varie avventure che potrete vivere in Altered, questo TCG che personalmente ho giocato con Claudio Tatuli, che ringrazio, e che mi ha affascinato a tal punto da dedicargli una serie di video che arriverà a tempo debito sul canale. Ma entriamo più nel dettaglio, andando ad analizzare i prodotti che saranno disponibili a partire da questo settembre, comprendendo anche a grandi linee le caratteristiche del gioco che lo differenzieranno da qualsiasi altro GCC attualmente presente in mercato. Signori, dalle statistiche di YouTube ho notato che in media il 77% di chi guarda i miei video non è ancora iscritto al canale. Pensate che se solo la metà decidesse di supportare il progetto, si raggiungerebbero i 10.000 iscritti in pochissimo tempo. Perciò datemi una mano, se ancora non siete iscritti basta un clic. Per voi è un semplice gesto, ma per me è di grande aiuto. Grazie per il supporto, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme cosa ci attenderà nel fantastico mondo di Altered. Andiamo a dargli un'occhiata. Su Asgarta, il luogo dove l'umanità ha dato inizio ad una nuova era, vi ritroverete a dover scegliere tra sei fazioni ben distinte. Gli Axiom, distanza nella fonderia, creatori di meraviglie tecnologiche ideate per agevolare la vita sulla Terra attraverso una nuova fonte di energia chiamata Kelon. I Braavos, con base nel porto, esseri liberi sotto ogni aspetto, capaci di destreggiarsi tra le infinite insidie del tumulto, affrontando pericoli a viso aperto senza paura. I Lira, che risiedono nell'Oroboros, una delle nove Shanka, città nomadi che viaggiano per la penisola, che faranno dell'arte una ragion d'essere, traendo dalla loro poliedricità energia vitale. I Muna, che dimorano nello Spindol, un albero del mondo i cui rami nodosi si estendono molto al di sopra di una foresta primitiva e selvaggia, con un legame vitale con la stessa natura, che rappresenta per loro un habitat da proteggere, traendone beneficio. Gli Ordis, con capitale monolith, un bastione che galleggia al di sopra di Asgarta a forma di ottaedro, fedeli all'ordine, la conoscenza e la giustizia, fattori in cui credono ciecamente. E gli Izmir, che tra le mura del Magistero studiano i segreti della magia andando quanto più a fondo possibile nella materia, cercando di svelarne gli enigmi più oscuri. Ebbene, ogni singola casate in questo primo set avrà di rappresentanza tre campioni con i rispettivi companion, i quali panni vestirete per partire alla ricerca di informazioni sul mondo esterno, e a seconda degli effetti di ognuno, riuscirete a prevalere in scontri sempre più ricchi di colpi di scena. Ok Arconte, ma come si gioca? Arriverà ben presto un contenuto dedicato in merito, ma se vorrete saperne di più in descrizione e vi lascerò il link che vi riporterà sul sito ufficiale sezione risorse. Va bene, una cosa però volevo chiederti. Su ogni carta è presente un QR code. A cosa serve? Scansionandolo attraverso l'app che è attualmente in via di sviluppo, potrete rivendicare la proprietà delle carte che avrete trovato in un pacchetto. Ed una volta svolta questa procedura, avrete le immagini delle carte stesse nel vostro portfolio personale. Ah, come se fosse un NFT. Non esattamente. Infatti una volta acquisito il possesso della versione digitale della carta, potrete o venderla attraverso il sistema dedicato sempre presente nell'app, o richiederne una copia fisica on demand direttamente a casa vostra. Anche in finitura foil, attraverso delle speciali carte che potrete trovare di media una ogni quattro booster pack chiamate Foiler. Come funzionano? A seconda della Foiler che troverete, Common, Rare o Unique, potrete attraverso l'applicazione trasformare una carta della stessa rarità senza finitura in una foil a tutti gli effetti. Notate bene, queste tipologie di carte avranno una sola carica e una volta designato l'elemento che vorrete trasformare, non potrete utilizzarle in altro modo. Vi servirà quindi una seconda Foiler per ripetere il procedimento appena menzionato. E a proposito di rarità, in Altered ce ne saranno come già accennato 3, comune, rara base ed alternativa ed unica, quest'ultima con drop rate una ogni 8 pacchetti, ognuna con un effetto diverso l'una dall'altra. Come sarebbe a dire Arconte? Per farla semplice, ogni rarità vedrà una carta a sé, quindi una comune sarà diversa da una rara che a sua volta sarà diversa da un'unica, anche se avranno nomi uguali. Rarità diverse, carte diverse, effetti diversi. I prodotti al momento disponibili in mercato, reperibili sempre verso settembre, mese di uscita ufficiale del gioco, saranno i 6 starter deck, uno per ogni fazione, contenenti 40 carte suddivise in, un campione, 31 carte comuni, 8 rare, 6 token, 5 carte avventura, 2 carte aiuto, una carta Foiler, una carta nuovo giocatore, 15 segnalini, un poster playmat ed un libro delle regole, assieme al display da 36 bustine del primo set oltre i cancelli che potrete preordinare su Fantasia Store. Come sempre vi lascerò il link agli articoli in descrizione. In più se vorrete provare le dinamiche di Altered dal vivo vi lascerò i link ai negozi che aderiranno al Roadshow, ovvero delle presentazioni anticipati dove i curiosi potranno toccare con mano le carte testando le meccaniche attraverso l'utilizzo di mazzi demo. Concludendo, ancora c'è da comprendere appieno lo sviluppo del gioco, il funzionamento dell'app e il regolamento completo che attualmente sono ancora in fase di sviluppo, ma le prerogative ci sono tutte ed i fondi per creare un TCG di successo anche, calcolando che addirittura la gamegenic si è messa in gioco per realizzare accessori dedicati che magari un giorno vi mostrerò in una puntata dell'Emporio del Crogiolo. Quindi non resta altro da fare che munirvi di coraggio e partire assieme al vostro companion verso l'ignoto, alla scoperta di misteriosi segreti che attenderanno voi e i vostri compagni di gioco oltre i cancelli di Asgarta. E voi darete una possibilità a questo nuovo titolo? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.